Il progetto, come è stato presentato, si presta ad essere trasferito a tutto il sistema. Io credo che sia anche questo il ruolo, di avviare delle buone pratiche da poi introdurre in tutta la formazione per i nostri ragazzi, perché questo è un progetto a cui la Regione ci crede, la condivide e quindi può essere esteso in maniera massiva a tutta la realtà della formazione e istruzione professionale della Regione Veneto. Grazie a tutti.